Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, ben ritrovati in questo nuovo video Allora, ne sto girando un altro dopo quello il video spesa Infatti si vede che non sto ancora bene Ho cercato di cambiare un po' la location così sembrava una cosa diversa Comunque, oggi vi faccio vedere i prodotti per l'igiene della casa e per l'igiene della persona che ho acquistato dal ProShop Ve li faccio vedere velocemente perché ho ancora memoria piena Quindi devo cercare di gestire il tutto velocemente Allora, confezione di bicchieri, quelli grandi Allora, una confezione di Vileda, non sono le mie solite Però devo trovare il modo di farmi le piacere perché non c'erano al ProShop Bicchierini piccoli da caffè Mio marito vuole provare questa schiuma da barba felce azzurra con olio di cocco e vitamina E Perdonatemi ma vi ho detto che non sto bene quindi Allora, confezione era in offerta di questo detergente mani ed è allo yogurt e pesca Se vi interessa vi posso far sapere anche una piccola recensione Magari ve lo introduco quando finirà nei prodotti terminati preferiti e non Allora, confezione di lame Gillette Poi una confezione di Vidal, il mio classico Vidal Per chi mi segue lo sa che io sono un'amante dei Vidal Ultra dolce all'enne per capelli scuri, balsamo E ovviamente anche lo shampoo sempre all'enne Altra confezione nuova che ho voluto provare è questa qui della Spontex doppio uso hot Ha la parte arancia e la parte normale gialla Quindi la parte sgrassante e la parte normale della spugna Vediamo un po' come mi ci trovo Ho preso due, anzi tre Perché queste mi finiscono veramente come il pane Amorbidente della Chicco Mi ho comprato tre di confezioni Una confezione felce azzurra talco Questa è la profumazione, quella profumo fresco Così la chiamano Confezione di mollette che non sono mai abbastanza Dav alla pera Mio marito si è trovato bene Confezione di assorbenti Felicia Faccio vedere velocemente tanto Poi ho comprato per pulire le tapparelle Ammoniaca e anche per i mobili Buona, non a tapera Questi sono due litri Perché mi era terminata Vernel Questa è la prima volta che lo uso Almeno da che mi ricordo Vernel Profumazione Blue Oxygen Vediamo un po' È una morbidente Vediamo un po' come mi ci trovo Abbiamo preso due confezioni di questo Dav Go Fresh Al cetriolo Poi Ho preso questo Lenore Che vi ho fatto vedere già in un altro video Spesa Pro Shop È buonissimo ragazzi Ve lo straconsiglio Qualsiasi cosa voi laviate Ve lo tenete profumato almeno per una settimana Confezione doppia Come l'altro video pro shop Di prodotti per l'igiene Del Per la pulizia Scusate Dei capi del bambino Una confezione Questa è nuova per noi Della Foxy Mi piaceva il fatto che era rosa Ho detto proviamola Stavate come le bambine Insomma questa Confezione di rotoli Sono sei rotoli Eh sì Il mio amato Pulirapid Fantastico Poi questa volta Abbiamo preso un nuovo Ammorbidente Tesori d'Oriente Questo è Rosa nera E labdano Sembra abbastanza profumato Quando lo utilizzerò Vi farò sapere l'esito Additivo igienizzante Per i capi del pupo Della Chantecler Poi Rimedio d'acero Ultradolce Balsamo Per i miei capelli Poi Alla fine Sempre con le pezzine Perché voi sapete Che io ne cambio Cioè cambio tutti i tipi di pezzi Al mese Ogni mese Faccio il riciclo Di tutte le pezze Non mi piace lavarle In lavatrice Faccio il riciclo Allora Cioè non riciclo Ho sbagliato la parola Che dico riciclo Cambio Non è nessun riciclo Allora Panno microfibra Per i vetri Spero di trovarmici bene Perché è la prima volta Che l'ho acquisto Questo O l'ho già acquistato Non mi ricordo Questo lo uso già L'ho ripreso Il panno Lampo asciuga È ottimo ragazzi Per fare i mobili È il panno gigante Per il pavimento Poi infine Dato che ho speso 50 euro E qualcosina Mi hanno dato Questi campioncini Sono dell'Infasil Poi mi hanno dato Il Pantene Pro V E mi hanno dato Questo cappuccetto Per Insomma Per i denti Per i denti Scusa Per il spazzolino Da denti Bene Anche oggi Vi ho mostrato La mia spesa Di detersivi Spero il video Vi sia piaciuto Vi mando un grandissimo Bacio E ci rivediamo Al prossimo video Mi raccomando Se non siete iscritti Iscrivetevi E attivate la campanella Per rimanere sempre aggiornati Ciao